muffa sui muri come eliminare la muffa sui muri non so se è chiaro di cosa parliamo non so se il trattamento lo facciamo con come vedete anche vicino alle finestre è un po generalizzato un po dappertutto il trattamento viene fatto con questi prodotti un giorno prima poi le pareti vengono spazzolate lavate e poi si passa la calce a questi prodotti qua e nel prossimo video vi farò vedere il risultato grazie